E' il ladro più ricercato. Nessun diamante è al sicuro. Diabolic. Nessuno conosce la sua identità. Mi piacerebbe incontrarlo. Se incroci il suo sguardo, per te è la fine. E' capace di ingannare e piegare alla sua volontà anche le persone più sospettabili. Accanto a lui l'affascinante Evacant. Lo insegue l'inarrestabile Ispettore Ginko. Una mossa sbagliata e ti sparo. I manetti Bros portano al cinema il re del terrore. Diabolic. E' il mio ruolo quale sarebbe? Quello della brava mogliettina che aspetta a casa? Mogliettina un corno. Al cinema. Al cinema. Al cinema. Grazie.